Una settimana di eventi all'insegna dello sport e dell'amicizia è stata la mission ben compiuta della manifestazione Summer Asi Ex Sport che si è svolta presso il Lido Sport Center di Gela. L'evento organizzato dal Comitato Regionale dell'Asia ha coinvolto diverse realtà sportive locali. Sono molto contento che si siano avvicinati a questi sport che vengono considerati o meglio detti sport minori, anche i bagnanti e tutti i passanti nel lungomere di Gela per provare anche loro sia la ginnastica che gli scacchi. Anche l'AS di Gela Scacchi è presente in questa kermesse sportiva organizzata qui allo Sport Center da Salvatore Spinello. Siamo molto contenti e felici di essere qui perché abbiamo così modo di far conoscere la nostra disciplina a chi vuole avvicinarsi, a chi vuole solo per curiosità vedere in che cosa consiste. Siamo qua a lungomare con la Gymnastics Club, quindi con la ginnastica artistica, con la ginnastica ritmica e con il cheerleading. La cosa bella di questa occasione che ci è stata data è quella di poter far provare bagnanti e comunque tutti i presenti la possibilità di poter provare a fare ginnastica. Questo gli ha permesso di toccare con mano ciò che in genere vede soltanto in televisione, quindi un'ottima iniziativa qui a lungomare di Gela. Piacere di essere venuto qua in questo fantastico paese, in questo bellissimo lungomare, invitati da Walter Miceghe per venire a fare qua un po' di ginnastica insieme alle ragazzine. Per un momento di aggregazione, di socializzazione e il modo migliore è con lo sport e con questa fantastica disciplina che ci permette di far vedere un po' che cosa significa l'acrobatica volare.